buongiorno e stamattina siamo qui io andrea de francicis e camillo pasquarelli un amico e fotografo io parlo a nome dell'associazione deodox un'associazione che si occupa di fotografia e stamattina abbiamo deciso diciamo di come nostra prima intervista di intervistare camillo un carissimo amico conosciuto in tanti anni di fotografia in india e che penso abbia molto da dire ciao buongiorno allora tanto grazie per l'invito e super piacere questa chiacchierata ma allora io diciamo che ho un ho una storia abbastanza comune credo per la nostra generazione nel senso io prima il mio primo rapporto con la fotografia è stato quello così di una casa con degli oggetti strani sugli scaffali che appartenevano a mio padre quindi il mio primo la mia prima relazione con la fotografia è stata giocare con delle macchine fotografiche che erano di mio padre però in casa mia oltre a delle macchine fotografiche c'erano anche già dei libri dei grandi classici cartier bresson paul strand e altri che quindi mi cominciavano a portare in un mondo poi piano piano anche di linguaggio e quindi fin da adolescente diciamo ho giocarellato con la fotografia quindi quando io viaggiavo quando avevo voglia mio padre mi aveva insegnato usare le macchine fotografiche e le portavo con me così per gioco senza grande consapevolezza che succede però che a un certo punto io i miei studi mi portano a torino dove mi lavoro in in antropologia per la mia laurea magistrale e come test di laurea vado vado in cashmere per per un po di mesi per lavorare su sulla questione del cashmere questa questo territorio conteso tra india e pakistan fino al 1948 momento in cui le due le due nazioni emergono da quello che era il territorio coloniale dell'impero britannico e il cashmere fin da subito diventa una questione di contesa tra le due nazioni che se lo contendono con quattro guerre fino agli anni 2000 e e che di fatto rimane una questione risolta internazionale io vado vado in cashmere nel lato indiano per cercare di studiare la questione sul 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 territorio e soprattutto cercare di capire un pochino meglio la questione delle delle aspettative politiche della popolazione che in realtà vorrebbero raggiungere l'indipendenza del proprio territorio ecco quindi io per la prima volta in cashmere ci vado da da antropologo ero già stato in cashmere da turista per la prima volta e poi ero tornato dall'anno dopo per fare la mia tesi di laurea e mi laureo in antropologia e chiaramente tradizionalmente gli antropologi fanno una cosa cioè scrivono e naturalmente esco dall'università e comincio a scrivere un po cercando di riciclare le mie conoscenze ma in questi primi due due viaggi diciamo una macchinetta era sempre con te cioè già già avevi cominciato a scattare già avevi dentro di te questa cosa di doverti portare delle immagini poi indietro o è stato successivo poi diciamo questo questo passo no beh allora sicuramente già nel 2015 quando sono andato per la ricerca di tesi io già già scattavo è chiaro che era più una raccolta di dati ecco era più un cercare di raccogliere dei dati degli appunti visivi erano che poi che poi mi sarebbero serviti un pochino per un po per illustrare un po per avere anche dentro di me degli appunti visivi di quello che era la questione che stavo cercando di raccontare però lì c'era già il germe di qualche cosa perché poi è da lì che è partito tutto quanto e poi in realtà alcune immagini già del primo viaggio poi sono sono finite nel lavoro finale sul 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 cashmere e quindi quel tipo quel tipo di immagine è una cosa che tu hai sempre avuto dentro poi diciamo la tua evoluzione diciamo da antropologo e poi da fotogiornalista e poi a quello che sei diventato oggi mi stai dicendo che in parte l'hai sempre avuta dentro te stessa cioè è stata diciamo una maturazione che poi hai fatto dentro di te per poi arrivare alla conclusione di oggi poi graficamente con le immagini che che diciamo produci oggi sì sì era 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 diciamo che era un bagaglio che mi portavo dietro in maniera un po così un po inconsapevole e che poi però piano piano mi sono reso conto che in realtà era era il tipo di linguaggio che più mi apparteneva che più e più mi appartenevano proprio che più mi veniva naturale c'è un certo ultimo sono reso conto del progetto di scrivere mi veniva molto più meccanico molto più macchinoso non meccanico molto più macchinoso meno meno fluido e quindi a un certo punto decido che voglio provare a vedere che cosa succede se do importanza a questa voce dentro di me che mi dice di raccontare di parlare visivamente e quindi dopo dopo quel momento io comincio a lavorare sul cashmere con la fotografia continuando però un'evoluzione di linguaggio che chiaramente all'inizio ha portato ad avvicinarmi al fotogiornalismo cioè io comincio a lavorare in cashmere dopo la mia laurea come con un approccio molto molto fotogiornalistico molto reportaggistico molto molto di tascalico perché era non so forse il linguaggio del più mi più avevo vicino in quel momento che più più mi era mi circondava forse più mi era attorno ma anche probabilmente uno può considerare una comfort zone nel senso che uno poi non si spinge oltre no anche anche emotivamente poi all'interno dell'immagine quindi comunque rimane in quello che comunque rimane importantissimo che il fotogiornalismo però poi io penso che possa diventare una comfort zone a un certo punto certo perché tu non ci sei cioè in qualche mania tu ci sei sempre in quelle immagini anche nel nel reportage più classico però è chiaro che tu sei distaccato da quello che dalle immagini che vuoi creare e che che è un che è una cosa c'è insomma un processo che 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 abbiamo condiviso ma in un sacco di volte ce ne abbiamo parlato di questo no con un certo punto di rendi conto e le immagini che crei le immagini che stai che stai facendo non sono vuote no non ci sei tu quasi cioè sì ok c'è un pochino il tuo stile c'è un pochino il tuo occhio però tu emotivamente no non ci sta lì dentro e lì è stato per me il torno in poi cioè il momento di cambiamento cioè io avevo di fronte a me queste immagini in cui non mi rivedevo in cui non non è che non mi soddisfacevano però non non mi facevano essere non mi sentivo sincero nelle immagini che che stavo producendo soprattutto in un contesto poi di conflitto no cioè quindi poi era pure tutto un andarsi a inserire in un iconografia di fotografie di conflitto di fotografie di reportage di scontri urbani di militari e quant'altro e lì a quel punto decido che voglio tornare in cashmere e cominciare a scattare in maniera assolutamente libera cioè voglio provare diversi formati voglio provare a non a soprattutto a non andare a cercare le informazioni no cioè io avevo questa formazione per cui se tu devi scattare delle immagini devono avere un significato un messaggio un sì un significato un un messaggio e invece no a un certo punto decido che voglio cominciare a scattare assolutamente in maniera libera cioè tutto quello che io ricevo come input in cashmere da quello che mi passa davanti passa attraverso il mio corpo e dentro al mio corpo attraverso le mie emozioni le mie sensazioni insomma sveglia qualcosa e quel momento il momento in cui tutto tutto scatto e poi paradossalmente il messaggio può essere anche più forte no se è costruito bene in questa maniera perché non è non è diciamo non si ferma alla mera immagine superficiale ma non lascia un pensiero di riflessione lo gigante che poi è quello che poi uno cerca di fare cioè non è solo una questione di ego ma è una questione anche di mettere se stesso all'interno dell'immagine quindi comunque di far pensare di più poi certo certo è un po perché poi tu ci sei no cioè secondo me se cominci a viaggiare in quel su quel canale della fotografia tu diventi tu sei sempre il filtro della realtà che vuoi raccontare no però a quel punto cioè se se lo sei allora io io mi sono detto allora io accelero tantissimo su questo cioè spingo tantissimo sul fatto che quella realtà che ti voglio far raccontare che ti voglio far vedere non te la racconti in maniera di tascali che è reale ma te la te la racconto nella maniera in cui la percepisco io e chiaramente la la posso deformare la posso la posso la posso colorare anche no però su questo c'è avuto un po di problemi perché arrivo ad avere un po di materiale sul cashmere e però non volevo neanche fare non mi sentivo molto tranquillo nel fare una cosa molto self molto autoreferenziale no e dire questo è il mio punto di vista sul cashmere non mi faceva stare molto tranquillo questa cosa quindi decido che 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 ho bisogno di trovare un punto di vista specifico che non sia il mio e a quel punto dopo dopo tanti consigli e dopo tante riflessioni capisco che forse la cosa che più si avvicina a quello che sto cercando fare io di fare io è la visione dei dei bambini perché quello mi permette di accedere ad un mondo visivo onirico disturbante chiaramente perché comunque non stai raccontando una storia serena comunque devi far arrivare quel messaggio di tutto questo messaggio di violenza di violazioni di diritti umani tu lo devi far arrivare chiaramente emotivamente quindi le due immagini se non di da scali che devono avere questa questo mood questa atmosfera disturbante comunque è questo quello che volevo fare io e i bambini mi permettevano di avere questa visione disturbata molto strana e non lineare no cioè i bambini non percepiscono la realtà in maniera razionale e diretta visivamente per come la percepiamo noi e soprattutto le cose che noi vediamo gli oggetti con cui noi ci relazioniamo tutti i giorni hanno dei significati sociali e culturali no che però noi attribuiamo questi 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 significati e quindi io con alcune immagini nel lavoro cerco di disorientarti completamente di farti vedere degli oggetti che sembrano sono delle cose che svolazzano su un su un cavo elettrico ma che invece poi sono possono sembrare no un fantasmino che che vola che vola che vola in aria no e anche anche risivamente no anche io ho cercato di stare di lavorare in maniera molto molto stretta molto decontestualizzando quasi cioè il cashmere quasi nel lavoro non si vede come è fatto ehm ed era sempre questo tentativo di 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 contestualizzare di farti un po' perdere in questo in questo mondo per farti per portarti in una percezione di 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 una questione di di un paesaggio emotivo molto complicato molto scuro attraverso gli occhi dei 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 bambini ebbene diciamo che questa tua visione quindi ha dato ragione perché quest'anno sei stato uno dei vincitori del FOM e possiamo anche dire che però mentre da una parte ti è andata bene perché sei stato uno dei vincitori del FOM dall'altra con la situazione covid eh ti è andata male no? Se ci puoi raccontare un pochino la tua esperienza come è andata dal punto di vista di mostri di produzione di tutto quest'anno che è andata come è andata. Sì eh allora sì questo in realtà è stato un anno bello cioè lavorativamente bello perché è arrivato il FOM che che è stato meraviglioso eh è uscito il libro eh del cashmere del cashmere con witty books a testa a dicembre poche settimane fa ehm è chiaro che però il il covid insomma sulla questione mostre è stato drammatico perché già già solo FOM aveva ehm quattro mostre in in programma a foto London a Paris Photo eh ad Anzina ad Amsterdam e sono tutte saltate. Perché sono saltati tutti i festival? Perché sono saltati tutti i festival. E c'è una possibilità poi di recuperare queste mostre o l'anno è andato? Ma quest'anno loro eh FOM ha deciso in realtà proprio per insomma per per venirci incontro per aiutarci ha deciso di di fare per la prima volta non so se la prima volta però erano anni che non lo facevano di fare la mostra del FOM talent dentro il museo di 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 FOM ad Amsterdam ed è una mostra che doveva inaugurare anche lì a metà dicembre ma chiaramente non è stata inaugurata perché sono in lockdown anche in Olanda che però dovrebbe aprire a gennaio e durerà fino a metà d'aprile. Quindi questo questa è la è la mostra confermata. Chiaro poi c'erano altre mostri con 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 Future sempre ad Anzine ad Amsterdam. È chiaro che quest'anno è stato da questo punto di vista impegnativo è stato impegnativo per gli impegni che sono saltati e poi chiaramente per noi che per me per per te anche no per per noi che lavoriamo all'estero no è stata anche una bella un bel problema perché non ci possiamo più muovere non si saprà non si sa quando ci potremo ricominciare a muovere e questo chiaramente insomma lo sappiamo tutti. Per me secondo me c'è un problema ulteriore perché io volevo andare a lavorare negli Stati Uniti sul lavoro su Colombo sull'eredità della memoria di Colombo e non si può fare chiaramente in questo momento però se noi se io anche volessi lavorare o trovassi una maniera per andare negli Stati Uniti a lavorare su un tema c'è un problema che qualsiasi cosa tu voglia qualsiasi argomento tu voglia trattare in questo momento a meno che con Mario è un fotografo super astratto e comunque vuoi raccontare la realtà in qualche modo è molto difficile evitare dei riferimenti visivi del momento le mascherine anche solo le mascherine no quindi che succede tu vai a fare un lavoro cerchi di trattare un tema che non c'entra niente col colombo che potrebbe essere universale nel tempo invece ti viene fermato a questo momento storico e quindi sei obbligato o a posporlo o a comunque ad adattarti alla condizione esatto questo secondo me è un problema importante perché cioè altrimenti con quei riferimenti visivi tu sicuramente avrai un lavoro che sarà per sempre inserito nella scatola tematica del periodo covid e magari tu non hai nessuna intenzione di 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 confrontarti con quel tema no e sì ma infatti io penso che molti molti fotografi in questo momento hanno questo problema cioè molti sono fermi perché molti scattano come dici tu in maniera universale con con delle tematiche che sono proprio astratte in questo momento proprio questa astrazione è resa difficilissima certo certo speriamo aspettiamo io io sto aspettando io non io ho deciso che su alcun paio di lavori non non l'inizio in questo momento aspetto inizio ho iniziato un altro lavoro sul tevere che chiaramente non mi permette di lavorare in maniera senza confrontarmi con con esseri umani e quindi almeno lavorando sull'ambiente sul paesaggio riesco in qualche maniera a salvarmi da questo ebbè paese soprattutto perché un lavoro nella tua città e quindi comunque puoi anche non spostarti e quindi come si dice probabilmente una ripresa del lavoro sul territorio va bene camillo ti ringrazio infinitamente di questa chiacchierata e speriamo di poterci rincontrare in tempi migliori futuri al covid un abbraccio grazie un abbraccio ciao ciao